Ciao ragazzi, volevo farvi gli auguri per il vostro anniversario, il quinto anniversario della vostra chiesa. Siete una bellissima famiglia, si proprio si respira l'affetto e spero di fare altre iniziative con voi, come quella bellissima che abbiamo fatto in libreria a Budrio in occasione del giorno del ringraziamento per festeggiare, per spiegare bene che cos'è, le persone che non lo sanno. Continuate così, un bacio a tutti!